Siamo qui oggi all'Istituto Colombatto di Torino per poter dare un augurio a tutti i maturandi. Una maturità sicuramente diversa, quella del 2020, ma una maturità in presenza grazie al lavoro di tutti quanti, degli insegnanti, degli operatori scolastici, dei dirigenti. Tutti al lavoro per poter garantire ai ragazzi una maturità in sicurezza. La città metropolitana ha fatto la sua parte, abbiamo definito un tavolo di lavoro insieme ai dirigenti scolastici, all'ufficio scolastico territoriale, insieme ai sindaci e ai rappresentanti delle zone omogenee. In questo tavolo non si ferma alla maturità, ma va avanti, prosegue, stiamo lavorando in modo da creare una vera e propria sinergia di territorio per poter far riprendere ai nostri ragazzi a settembre la scuola in sicurezza. L'obiettivo è quello di traghettare questo momento particolare dalla fase 2 alla fase 3, in modo tale che quando ci sarà il suono della campanella i nostri ragazzi potranno tornare tra i panchi di scuola.